Lady Kitty Spencer ha un nuovo amore. Con uno scatto pubblicato sui social la nipote di Lady Diana è uscita allo scoperto con Alessandro Morelli Una foto che ritrae la coppia insieme con una frase che lascia davvero poco spazio allimmaginazione Così felice di averti nella mia vita scrive la modella britannica vera e propria Celebrities sui social dove è seguita da ben 460.000 persone Manca dirlo lo scatto dei due piccioncini ha collezionato nel giro di poche ore quasi 17.000 like e centinaia di commenti La nipote di Lady Diana a settembre scorso è volata a Milano dove ha spilato durante la settimana della moda, infatti, lo scatto è stato fatto proprio in occasione della Fashion Week milanese. La reazione sui social è stata immediata I follower della bella modella britannica sono letteralmente impazziti nel vedere la nuova coppia. Una fan, infatti, le ha scritto, siete davvero una bella coppia, mentre un altro fan ha notato la felicità della modella Kitty ha poco dopo replicato ai suoi fan con una frase che ha attirato ancora di più l'attenzione dei suoi fans, grazie, abbiamo in programma di avere dei bei bambini, non è vero Alessandro? Che la bellissima coppia e stia davvero pensando di mettere su famiglia. Chi è Lady Kitty Spencer? Classe 1990, Lady Kitty e Leonor Spencer è nata il 28 dicembre a Londra. Figlia di Charles Spencer, il fratello più piccolo dell'indimenticabile Lady Diana, la ragazza è una modella. Cresciuta in Sudafrica, Kitty non ha vissuto il lungo divorzio tra la zia Diana e Carlo d'Inghilterra. Una decisione presa dal padre Charles che ha preferito allontanarsi dal clamore mediatico generato dalla separazione della sorella per far vivere ai suoi quattro figli, tra cui la bellissima Kitty, un'adolescenza serena e lontano dal Gossi. In Sudafrica Kitty è cresciuta serena studiando dalla psicologia alla letteratura britannica. Successivamente ha poi deciso di partire alla volta dell'Italia, per la precisione Firenze, dove ha studiato e seguito diversi corsi di storia dell'arte. Grande appassionata di arte, la modella ha qualcosa che la lega alla zia Diana. Entrambe sono appassionate di filantropia. Kitty, infatti, è la madrina di Give Us Time e Centrepoint, due associazioni che si impegnano a sostenere ed aiutare i soldati reduci dalla guerra e i giovani senza tetto. Non solo, l'impegno in prima linea per i più sfortunati, visto che Lady Kitty è una delle modelle più richieste e conosciute nell'ambito della moda. Durante la sua carriera, infatti, ha sfilato sulle passerelle dei più importanti brand di moda tra cui Dolce e Gabbana. La sua bellezza è sotto gli occhi di tutti al punto che la rivista Tetler l'ha eletta una delle ragazze più belle di tutto il Regno Unito. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like. Grazie. Grazie.